La verità è insieme materia e obiettivo dell'opera del giornalista. Così Don Gianni Massaro, vicario del Vescovo di Andria Monsignor Raffaele Calabro, nella sua omelia durante la messa tenuta al Santuario del Santissimo Salvatore di Andria per celebrare il protettore degli operatori della comunicazione. San Francesco di Sales ha ricordato Don Gianni Massaro che ha presieduto la celebrazione condivisa con rappresentanti della diocesi di Barletta, Trani, Biceglie e Nazareth, è diventato protettore dei giornalisti grazie alla sua opera pastorale. In Savoia, terra dominata dai calvinisti, confutava i principi di questa dottrina scrivendo e affiggendo ovunque fosse possibile brevi manifesti del credo cristiano. Inventò insomma un primo mezzo di diffusione di massa, di un messaggio. In questo giorno, ormai da cinque anni, i giornalisti del territorio della Bat si ritrovano per condividere un momento di riflessione sull'attività che svolgono. Utili in questo senso le citazioni che Don Gianni Massaro ha portato nel messaggio ai giornalisti da Papa Paolo VI, il primo Papa a confrontarsi con la potenza dei media, a Monsignor Raffaele Calabro, di cui ha detto Don Massaro, segue sempre con attenzione il lavoro che svolgono gli operatori della comunicazione della sua diocesi.